Dopo la lettera aperta di Brucchi, ultimo atto in ordine di tempo a difesa della società bianco-rossa, tutta l'opposizione sbotta contro l'amministrazione comunale. Nel mirino finisce soprattutto la decisione del primo cittadino di dedicare gli uffici legali dell'ente al monitoraggio delle sentenze sportive. Una situazione che in città ha acceso gli animi perché sembrerebbe che il sindaco e la sua giunta abbiano completamente dimenticato i numerosi problemi della città, come l'attualissima situazione legata al servizio di Sabili che va avanti da circa un mese. È scandaloso che il sindaco Brucchi trovi il tempo per parlare della Teramo Calcio e per offrire l'ufficio legale del Comune di Teramo a difesa e a tutela della Teramo Calcio, anziché occuparsi con la stessa forza e l'importanza di altrettante questioni, come ad esempio i disabili. Ad oggi decine di famiglie sono ancora senza assistenza, hanno rinviato tutto a giovedì prossimo con un ennesimo tavolo di lavoro, qui la gente viene presa in giro sia dal sindaco Brucchi che dall'assessore Misticoni, perché continuano a rimandare questa importante questione. Inoltre ci sono altre questioni, come ad esempio la Teramo Ambiente, che oggi avrà proprio un incontro per stabilire se confermare o meno le giornate di sciopero. Quindi le cose ci sono, i problemi ci sono e non c'è solo la Teramo Calcio. Grazie.